Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Sull'Europa centro-occidentale una vasta depressione atlantica sta portando severo maltempo con temporali e nubifragi che stanno duramente colpendo anche le regioni settentrionali della nostra penisola. Sulle regioni meridionali invece persiste un'intensa risalità di aria più calda africana che nella giornata di venerdì porterà la colonnina di Mercolio a toccare 38-40 gradi in alcune zone interne. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 29 giugno. Nelle prime ore del mattino passaggio di nubi medio-alte sulla Basilicata e Puglia centro-settentrionale ma in veloce dissolvimento durante la mattinata. Nel pomeriggio e sera cieli sireni ovunque. Per quanto riguarda le temperature saranno in calo di 2-3 gradi ovunque sulla Puglia centro-settentrionale e sul Potentino. Le zone più calde risulteranno il Salento, lato Adriatico e il Materano meridionale con punte massime sui 32-34 gradi. Sulla Puglia centro-settentrionale e Potentino venti rinforzo di libeccio secco conosciuto anche come Garbino a causa del passaggio sui rilievi appenninici che ne causano il riscaldamento. Sulla Puglia meridionale e arco ionico invece sarà lo scirocco a fare da protagonista. Per quanto riguarda i mari, mosso l'Olionio, mosso molto mosso il Canal d'Otronto, poco mosso il Basso Adriatico. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia che ci mostra da Faito in provincia di Foggia la maestosa incudine di un temporale. Rappresenta la parte sommitale di una cella temporalesca che può raggiungere anche i 15.000 metri di altezza. Se volete inviarci la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.